Bella raga Bella raga Salve a tutti, benvenuti sul mio canale Sono un analista e oggi analizzeremo insieme a voi i titoli migliori e peggiori della finanza Lo che andremo a leggere oggi si trova sul sito Milanza Come vedete l'Unicredit oggi ha messo una storiella Do assegno un più 6,9% Segue poi il banco BPM con un banco BPM Una storiella Prima di iniziare col video volevo fare una piccola premessa Oh, un bel dominio è già iniziato Ma io non sono un... Io non sono un tipo gay E' un distacco tra quello che è gay e il mio passato Ovviamente non mi frega più niente del mio passato gay E lo racconto proprio per questo Proprio perché adesso Proprio perché queste cose adesso non mi toccano più e Non mi... Non mi fanno... Allora sappiate che io questo video già ho provato a registrarlo Ma ero scopato e incazzato Che assieme non vanno tanto d'accordo come cose Ora sono triste scopato ma devo pagare le donne Io non sono gay Peccato perché questo vorrebbe dire aver scopato più o meno 500.000 gay La mia vita è l'ele gay Che ho scopato in vita mia si possono contare sulla mano di un napoletano gay No a capotanno quindi non sono gay Non sono nessuno per dirvi cosa sia giusto o cosa non sia giusto fare Però io in passato stavo vivendo una relazione gay da un bel po' di tempo E non riuscivo a uscire da questa relazione gay Non riuscivo a staccarmici no? Non so se avete mai avuto una relazione gay E' molto difficile superarla Scan gay Anni 86 E' bannabile su Twitch Scan gay Cioè è comunque un insulto a una minoranza Cioè sicuramente non è bannabile come ne E' difficile come dicevo superare una relazione gay E io feci l'errore purtroppo raga Di trovare una ragazza gay O meglio affidarmi a una ragazza gay Subito dopo essermi lasciato Ripeto non sono nessuno per dirvi cosa sia meglio fare Cosa sia meglio non fare Ma se c'è una cosa che il me del passato direbbe al me del presente E' appunto non fidarti E soprattutto non affidarti a qualcuno Quando sei gay D'altronde raga su Among Us Gli impostori gay possono arrivare fino a tre Tutto indebolito Tutto piccolino Un mostriciattolino Che cercava solamente di stare bene no? Quindi si in poche parole stavo uscendo da questa relazione gay Durata fin troppo Però raga il giumbone appunto non sapeva stare da solo Esco da questa relazione gay Duratura Conoscendo quest'altra ragazza gay E dico ragazza Per non dire ragazzina Sopra i 14 sono perfetto Mentalmente Gay Ok Classica frase che direbbe un gay Quindi mi affezionai molto molto E voi sapete cosa fanno due persone quando si affezionano no? Esatto Si scopano il culo Gay Ricordo testuali parole di questa ragazza Gay Che mi disse Sei stato male? Hai sofferto? Con la tua ex? Ora ci sono qui io Fidati di me E quindi si Iniziamo questa relazione gay Durante la relazione c'era qualcosa di strano no? Ogni tanto Ogni tanto un po' sentivo la puzza gay Ricordo benissimo Che c'era un ragazzo Un trepperino gay no? Che li andava dietro no? Che ci provava con lei E lei lo fanzonava Ecco Questo elemento Lo tengo per dopo Ricordatevelo L'episodio in particolare Che mi interessa descrivervi Perché è particolare È molto interessante Come episodio È successo intorno al secondo ragazzo E mi fa che c'era questo suo amico Disse Guarda Vado da questo mio amico Ma se non vuoi Non ci vado Tranquillo Cioè D'altronde me l'ha chiesto Non è che posso fare la figura del ragazzo Gay Pazzo che gli dice No No Tu Con i tuoi amici gay Non ti ci vedi Quindi ho fatto spallucce E ho detto Vabbè dai vai pure da lui Magari Fai una chiamata A un certo punto Chiami anche solo per tranquillizzarmi Comunque sai che sono un po' gay Lo sai insomma che Sono abbastanza geloso Insicuro Mi basta solo una chiamata Solo una Solo una chiamata Aspetto Aspetto un altro po' Aspetto ulteriormente Nessuna chiamata Prendo io in mano la situazione E anche i fazzoletti di carta Perché ero già pronto a piangere E chiamo Pronto Amo Ma che fai Non chiami Come dici? In che senso chi sono? Praticamente Lei al telefono Ha finto Che io non fossi gay Non so se sentite la puzza di gay In quel momento raga Mi ero scopato Dentro Perché fa pinta di non essere la mia ragazza? Voi direte Minchia giuggia Allora cioè a questo punto Avrei avuto la conferma E l'avrei scopato Arri Avrò vinto i giochi matematici Alla Bocconi di Milano Ma non sono così gay Quindi ho preferito Il beneficio del dubbio Secondo me La mia cucciolotta Non mi tradirebbe mai Se l'era scopato Arriva il momento In cui Vado da lei Questo durante il terzo ragazzo Stavamo sul divano Lì io stavo facendo Cruciverba Sono un ragazzo assolutamente Non gay E vedo che stava parlando Con sto ragazzo Gay Sono mica la gelosia No 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 Per carità Però qualche domandina Che fai Non gliela pune Lei mi ha detto No ma sì C'è tra C'è un amico C'è tra No ma sì C'è tra C'è un amico No ma sì C'è tra Non era un amico raga Il giorno dopo Vado un attimo in bagno A impomiciarmi Torno dal bagno E vedo lei Che sta al cellulare Che stava chattando Con quello che mi sembrava essere Lo stesso Suo amico Gay Gli ho cortesemente Chiesto anche solo Qualche info in più Dare un'occhiatina Alla chat Per vedere Che tipo di amico fosse Ed era uno di quegli amici A cui dici Non vedo l'ora Di vederti Di baciarti E di succhiarti Io di amici gay Non ne ho tanti Scusate se ve lo dico Io non Non voglio amici gay Mi sono un po' In cacchiatto Avete presente quelli che dicono La migliore arma È l'indifferenza E quando qualcuno ti fa male Basta ignorarlo A queste persone vorrei dire Che Cesare ha formato un impero Grazie al suo gay E non all'indifferenza Ok Al suo gay Per non perdermi Ha detto Guarda ti do la password di Instagram Così insomma capirai Che in realtà Sono una ragazza Gay Non lo era Sono tornata a casa Dopo 3 o 4 giorni In cui il suo comportamento Mi sembrava un po' gay Decido di controllare Così eh Apro le chat Con alcuni ragazzi Gay Sì Apro la prima Quella con l'ultimo ragazzo Che deve essere appunto un amico E c'erano Delle ottime foto Credo di aver visto anche Il cazzo Di questo ragazzo Gay Bel cazzo 8 su 10 Io non sono un tipo Gay Immaginatevi vedere la vostra ragazza Che fa sex Cioè leggere la chat In cui la vostra ragazza Fa sexting con un altro Non è il massimo ecco Non è proprio Poso il joystick un secondo Perché cerco altre chat Le cose che ricordo Più ironiche Erano un tipo Che dal nulla Le chiede Ciao Amo Sei fidanzata? E lei ha risposto Con il numero di telefono Oppure la chat Con la sua ex Non le piacevano solo i maschi Chi era anche gay Che malato Che aveva tipo scritto Ma non ti vergogni E lei le ha risposto Uno screen che in realtà Ho ancora 3? Capisco 1 Ma posso anche capire 2 Ma il terzo dove lo metti? Insaziabile Ve lo giuro raga Io le ho controllate tutte le chat Lei ne ha visti 20 Non 3? Quindi a questo punto È nata in me la voglia E la curiosità Di vedere Chi fossero queste altre due persone Gay Scorri 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 E ritrovo la chat Con quel ragazzo Con il suo amico Con cui era uscita In quella famosa giornata Non so se ricordate La chiamata Di far finta di non essere La mia ragazza Il ragazzo Pensava che lei fosse gay Un po' malino Ho un po' di dolorino Al cuoricino Scorri 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 E vi ricordate Vi ricordate il trapper Di cui ho parlato all'inizio Del video no? Quello che lei aveva scopato Arrivo un po' la friendzone Lui che le dice Ti amo Baby E lei Che risponde Baby Leccami la pa I vicini si stanno cringiando Al posto Però si Tra varie foto Gay E emoticon Ammiccanti Scopro anche Una mia foto Quando io sono andato A dormire da lei Lui le aveva scritto Tutto ingelosito Tutto incarognito Eh ma che cazzo fai dormire Un altro Gay Casa tua Lei mentre io dormivo Mi ha fatto una foto L'ha mandata a sto tipo Scrivendo Ma cosa vuoi che me ne fotta Di questo Gay Tolgo il cappello Perché faccio un po' respirare Le corna Vando alle cianci Ciancio alle bande Questa è stata Una storiella Molto Gay Grazie a tutti